Cisale che scende dopo la seconda giornata al Fanta Calcio Prima di partire con il video, mi raccomando, lascia un like come forma di supporto e apprezzamento per questo contenuto Se non sei iscritto, iscriviti a questo canale per non perderti nessuna novità a tema Fanta Calcio Ricorda in descrizione trovi il link per registrarti gratuitamente su Fanta Lab Tool per l'asta perfetta, tra l'altro se vuoi fare la versione premium ho un piccolo sconto per te Utilizzando il codice sconto Fanta Virus pagherai il Tool solo 12 euro all'anno anziché 16 euro all'anno Nel frattempo ti invito ad utilizzare tutte le funzionalità gratuite che puoi trovare su Fanta Lab Tra cui Asta Online con i tuoi amici ma anche Fanta Lab Manageriale Il primo Fanta Calcio Manageriale all'istone d'Italia dove puoi sfidare i tuoi Fanta YouTubers preferiti Ricordo poi per chi volesse potete supportare il canale con gli abbonamenti Si parte da 9,99€ ci sono tanti vantaggi tra cui ad esempio le mie fasce costantemente aggiornate Se vuoi uno studio dettagliato sulla tua asta di riparazione invece devi fare l'abbonamento livello plus da 9,99€ al mese Chisales Pavlovich Il nuovo centrale difensivo del Milan ha finalmente esordito con la maglia rossonera Prestazioni con luci ed ombre ma la sensazione di fine agosto è abbastanza chiara Il difensore serbo ha tutto per poter essere un potenziale difensore da modificatore Arcigno non sarà velocissimo ma allo stesso tempo superarlo non è mai facile A patto ovviamente che Fonseca riesca a dare un po' di equilibrio alla squadra Dietro si balla troppo E chiaramente più gol prendi maggiori sono le probabilità che i difensori possono rimediare delle insufficienze Anche perché si difende da squadra e non singolarmente I due gol subiti a Parma evidenziano ancora una volta gli errori collettivi nelle letture Che poi chiaramente vanno ad influenzare negativamente il rendimento dei singoli Ma su Pavlovich voglio provare ad essere fiducioso Perché i presupposti affinché possa far molto bene ci sono Nelle prime aste tra l'altro lo si prendeva anche a pochi crediti Ma dopo l'esordio credo non sarà più così Chi scende? Hassan Kamara L'espulsione dell'esterno dell'Udinese condizionerà inevitabilmente quanto accadrà nelle prossime aste di settembre Il mio a tal proposito vuole essere un invito a non farvi condizionare troppo da questo cartellino rosso Perché resta pur sempre un difensore che gioca sulla linea dei centrocampisti Magari a livello fantacalcistico non farà il devasto come altri bug di ruolo Ma se è già presente nella mia rosa non lo andrei a cedere facilmente Al contrario per chi deve ancora fare l'asta o è impegnato nella riparazione o con gli scambi Questo è un nome che in questo determinato momento storico si prende a basso prezzo Chi sale? Lorenzo Colombo Non sarà un bomber ma c'è un Lorenzo Colombo prima della seconda giornata E un Lorenzo Colombo dopo la seconda giornata Il fatto che sia lui il rigorista dell'Empoli cambia e anche tanto la sua appetibilità al fantacalcio Non sarà un bomber come tanti altri attaccanti che militano in Serie A Ma la possibilità di presentarsi sul dischetto gli permetterà di incrementare anche notevolmente il suo bottino di bonus E alle aste cambia tutto Se prima lo prendevi a pochi crediti adesso come minimo il 4-5% del budget è da mettere in conto Brutte notizie per i fantallenatori che se lo contenderanno a settembre Chi scende? Filip Marchvisky Bocciato o meglio rimandato a detta di Gotti Non ha ancora la giusta intensità per giocare in Serie A Questione di tempo e di ambientamento Ma è ragazza a qualità importanti e tra qualche settimana potrebbe essere un protagonista anche al fantacalcio Intanto però in ottica asta cambia tutto Se prima per acquistarlo lo pagavi anche il 3% adesso si dovrà inevitabilmente abbassare la mira Che non è sicuramente un male visto l'aip che si era creato attorno al suo nome Chi sale c'è Adams Giocatore straordinario che con Zapata si sposa alla perfezione nell'attacca a due divanoli Li sono bastate due partite per superare Sanabria nelle gerarchie Le potenzialità finché possa far bene ci sono tutte E la doppia cifra di gol è sicuramente un obiettivo alla portata E chiaramente le ripercussioni ci sono tutte anche in chiave asta A prescindere che sia stata già fatta o meno Va considerato come il classico attaccante da 10% del budget Da questa valutazione non si sfugge Questo è il suo valore Scende Emerson Royale esordio a dir poco scioccante Quello dell'ex Tottenham con la maglia del Milan Chi però lo conosceva già credo non si sia sorpreso di nulla Come giocatore è ormai fatto e finito Insomma non eccelle particolarmente nelle due fasi di gioco Ma può essere molto utile in fase di palleggio Al netto di ciò Fonseca avrà modo da lavorarci Perché in seriali i standard difensivi sono molto elevati E chi credeva che Calabria finisse facilmente in panchina dovrà ricredersi Almeno per il momento Insomma in sede d'asta non è un difensore che verrà strapagato Può essere minimamente appedibile al mantra perché è alla B Ma non mi aspetto grossi exploit al fantacalcio Piuttosto lecito attendersi tanti alti e bassi Con picchi negativi e insufficienze Che potrebbero spesso costar caro Chisale Ivan Ilic sembrava prossima alla cessione Ma è rimasto e adesso un grande protagonista del Torino Vanoli è un allenatore che avendo lavorato con Conte Si ispira tantissimo all'attuale tecnico del Napoli Alcuni principi di gioco sono praticamente identici E nel loro 3-5-2 le mezzali Hanno importanti compiti in fase offensiva Sotto questo punto di vista L'avvio di stagione di Ilic non deve sorprendere Ma è chiaro che in otticasta di settembre anche di riparazione Il suo è un nome che acquisisce maggiore credibilità in chiave fantacalcio Con conseguente aumento del prezzo All'agosto potevano bastare pochi crediti per acquistarlo Adesso non sarà più così Discende Charles de Quetelare Dei tre offensivi dell'Atalanta che hanno iniziato dal primo minuto Nelle prime due giornate il Belga è l'unico ad essere rimasto a secco Nulla di preoccupante Un po' di sfortuna e qualche legno Ma con tanti altri attaccanti che hanno già segnato Questo può essere il momento ideale per andare a prenderlo Qualche fantallenatore che ci ha puntato ad agosto Potrebbe essere già un minimo sfiduciato Mentre per chi dovrà ancora fare la propria asta Si può provare a fare un ragionamento simile Con tanti attaccanti andati già segno Per questi potrebbero esserci dei prezzi maggiori rispetto a De Quetelare Il cui prezzo rispetto a caduta quanto visto nel mese di agosto Potrebbe subire una leggera flessione Chisale Kviciak-Varaschelia Discorso inverso a quello fatto per De Quetelare Gol e assist contro il Bologna per Kviciak Finalmente il Napoli comincia a convincere E anche il Giorgianno è salito di livello Però il suo prezzo alle prossime aste di settembre Rischia di subire una bella impennata I primi turni di campionato sotto questo punto di vista Sono molto influenti E considerando che gente come Leao, Dybala e Dobbic È rimasta a secco È lecita aspettarsi dei prezzi più bassi per acquistarli Con Kvara che allo stesso tempo rischia di finire pagato Come minimo il 25% del budget Chi scende? Pepe Reina L'estremo difensore spagnolo continua a non convincere Ha le responsabilità sul gol subito Ed almeno in altre due circostanze È parso tutt'altro che sicuro Rischiando di fare clamorose frittate Non dà sicurezza Per quanto tempo ancora Fabregas gli darà fiducia Audero scalpita in panchina Intanto però al fantacalcio Tenderei a stare lontano da un portiere Che tra i pali non sembra peccabile Perché oltre al danno Se commette errori Può arrivare la beffa Le insufficienze Con Malus Possono essere una costante Di questa stagione Attenzione Chi sale Matteo Darmiano Un gol che cambia tutto In vista delle asse di settembre Esterno a tutta fascia Titolare dell'Inter di Inzaghi Non consideratissimo Da gran parte dei fanta allenatori Per motivi ignoti La presenza di Danfres in rosa Forse Ma Darmiano un profilo affidabile Che il suo lo ha sempre fatto Non apprezzato? Sicuramente Ma adesso può cambiare tutto In una stagione partita Sotto i migliori auspici Qualora avesse una certa continuità di impiego In una posizione così offensiva Avrebbe tutto Per poter incidere in zona bonus Adesso c'è una sola certezza In sede d'asta Lo si pagherà qualcosa in più del 2% Al quale lo si acquistava Fino a qualche giorno fa Chi scende? Lucas da Cugna Titolare del Como Ma gli occhi di Fabregas Non sembra essere imprescindibile Al contrario magari Di strepezza L'esterno francese sta un po' faticando E nelle prime uscite Non ha convinto appieno Questione di forma Ma intanto va registrato Che è sempre tra i primi A essere sostituito Di questi indizi ovviamente Non si può non tener conto Allo stesso tempo E presto per dar giudizi Che possono essere Soprattutto in questo momento Affrettati Nonostante ciò Non ha zanardate A svenderlo Piuttosto Può essere questa l'occasione Per prenderlo A prezzo di saldo Chi sale André Cambiaso Non inganni il fatto Che ha giocato in posizione offensiva Contro le Las Verona La questione da porsi In questo caso è un'altra Cosa accadrà Quando finalmente Diego Motta Avrà i suoi uomini al completo E' abbastanza palese Il fatto Che proprio Cambiaso Dovrebbe tornare a occupare La sua posizione Di Tersino Risultando Importante Allo stesso tempo Anche in fase di costruzione Se cercate Un bug di ruolo Da strapagare all'asta Desistete Dall'idea Di acquistarlo Sicuramente Agli occhi del fantelenatore Medio Un giocatore Che acquisisce Maggior appeal Ma i meno superficiali Non devono farsi ingannare Per chi deve fare l'asta Il rischio è che lo si paghi Da top E a mio avviso Strapagarlo Significa commettere Un errore grave In fase di costruzione Della propria rosa Se lo avete già Potete Provare a scambiarlo Se c'è L'occasione giusta Non sarà complicato Rinforzare La propria rosa Ragazzi per oggi è tutto Chiusa la seconda giornata Vi aspetto già domani Per iniziare A preparare Il terzo turno Della nostra serie A Ciao a tutti